Gile! Weekend arrivato e quindi si mangia qualcosina di più. E possiamo anche dire grazie a tutti quanti che hanno già cominciato a seguirci su Amati, hashtag Amati. Grazie! Grazie, grazie veramente. Mi raccomando continuate a diffondere perché da lunedì, lunedì, noi partiamo con gli allenamenti. Ok, parteremo con quale parte? Allora, tema di oggi. Cosa che non ti piace del tuo corpo? Che cosa non mi è piaciuto dal mio corpo. Beh, certo, tu ci hai già lavorato. No, 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 perché ci sono diversi diversi fasi. Ok, allora, quando ero giovane non mi piacevano le gambe, che oggi come oggi non diresti mai perché adesso ho il gioco di gamba. Aspetta! Ritornando sulle etichette, mia mamma, quando ero piccola, diceva che avevo horsey thighs che in inglese vuol dire la gambotta. Ah, la mia! la gambotta io avevo la gambotta prima di trovare diversi prodotti miei non sto facendo pubblicità ma il trampolino mi ha fatto veramente sconfiare tesoro ne parleremo dei tuoi prodotti perché io li sto usando ormai da una settimana e devo dire che da così a così tanto plin plin tantissima plin plin quando ero giovane non mi piacevano le gambe e se vi ricordate quando facevo amici avevo tanta roba addosso ero molto più grossa così il trampolino mi ha aiutato di risettare il mio metabolismo e poi è passata che non mi vedeva la pancia la pancia è un problema di tantissime donne di tantissime amiche lo so perché mi scrivete spesso e volentieri che chi ha avuto una gravidanza chi si è un po' rilassata chi è ingrassata la pancia è uno dei problemi quindi faremo degli esercizi anche per la pancia c'è anche una nota di grandissima speranza perché due anni fa giugno di due anni fa così ci siamo quasi due anni fa e sono ammesso di sana pianta di lavorare la pancia che vi farò vedere con Elisa in questi giorni in queste settimane insieme e con costanza io non sto dicendo che la pancia si appiettisce in tre giorni perché è una bugia ma con la costanza vedrai la pancia letteralmente plasmarsi tonificarsi diventare più piatta e così tutto è possibile benissimo allora l'appuntamento è lunedì condividete la pagina e i video il più possibile perché più siamo meglio è anche perché più avanti ci incontreremo tutte quindi mi raccomando vogliamo che sia un gruppo bello 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 tosto bello aspetta guarda non tu non hai detto quale parte del corpo non ti piace allora cara Jill a me attualmente non mi piacciono molto le mie braccia mi piacerebbero un po' più toniche quella sì e poi la parte sotto della pancia che sei un po' rilassata devo lavorarci allora siamo qua per questo ok tutti insieme però da lunedì da lunedì vi aspettiamo ciao a martì a martì